Taglio del nastro alla presenza del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che ha inaugurato a Campobasso la sede di Noi Moderati in Viale Elena 11. Beh, innanzitutto per dire un grazie, un grazie ai molisani che hanno dato un ottimo risultato alla lista Noi Moderati alle scorse elezioni regionali, più del 7,5%. E poi per ribadire che la nascita appunto del gruppo consigliare di Noi Moderati, la nomina del consigliere cofelice a coordinatore regionale di Noi Moderati è un segno del contributo che la nostra proposta politica vuole dare al centro-destra ma innanzitutto anche a questa regione. I temi caldi attenzionati dal governo Meloni sono tanti in Molise, in primis la sanità con la riduzione delle liste di attesa ma anche la viabilità, puntualizza Lupi. I problemi sono tanti, innanzitutto la sanità, ne abbiamo discusso anche mercoledì sera con la presidente Meloni, la prossima legge di bilancio vedrà per forza di cose anche un contributo alla regione Molise sul tema sanitario, abbiamo da ridurre le liste di attesa in tutta Italia e le infrastrutture, venire qui è un'avventura e siamo nel 2023. Il lunedì declineremo quali contributi anche immediati possono essere dati alla regione Molise perché possa fare quello che deve fare una regione, cioè sul tema della sanità ritornare ad essere al fianco dei propri cittadini con una dignità della cura che non può essere differente da regione a regione. Al consigliere Fabio Cofelice il compito di radicare il partito sul territorio dopo l'ottimo risultato alle scorse elezioni regionali.